L'assessore allo sport del comune di Battipaglia Pietro Cerullo ha convocato per oggi giovedì 18 ottobre alle ore 18 un incontro per trovare una soluzione alla questione relativa allo stadio Pastena. Al tavolo sono stati invitati per via ufficiale i dirigenti dell'ASD Battipaglia Calcio, società che ha in gestione l'impianto di Viale Barassi e della Battipagliese, mentre per via ufficiosa dovrebbero essere seduti al tavolo anche alcuni tifosi. La delegazione della Battipagliese vedrà la presenza del direttore generale Francesco Ferraiolo e del rappresentante legale della società l'avvocato Luca Muto. A rendere necessario l'incontro la decisione della società bianconera di disputare la prossima partita presso lo stadio Figliolia di Baronissi per via di alcune divergenze con l'ente gestore dello stadio Pastena.